un ottimo onore che regala grandi emozioni anche sentimentali andiamo al segno delle Capricorno ecco, un segno in questa giornata un po' schivo poi mi riferisco a quelli che frequentano dei Capricorni magari avete intenzione di andare al cinema ecco che il Capricorno suggerirà sempre il film thriller il film un po' quello, l'horror, l'ultimo che è uscito perché avranno un po' questo spirito in questa giornata però è uno spirito che può essere anche estremamente creativo occhio alle idee che mi vengono in questa giornata andiamo al segno delle Capricorni